buongiorno a tutti benvenuti nel mio garage oggi il cavalletto dell'aprile rx 125 1994 ha dei cuscinetti all'interno delle boccole ed erano rotti io li ho fatti arrivare e adesso con la pressa li metterò dentro mi invito sempre a iscrivervi al canale condividere i miei video e a guardare tutti i video precedenti della rx 125 poi andrò a montare la corona sul cerchio posteriore andiamo a vedere di mettere questi cuscinetti questo cavalletto l'ho dovuto comprare per aprile rx 125 usato adesso vado a montare i cuscinetti dalla sua parte poi dovrò verniciarlo proviamo a vedere di metterli dentro intanto vi chiedo sempre di andare a vedere tutti gli altri video della serie aprile rx 125 lo trovate nella mia playlist ecco andiamo a rallentare e adesso con questa gli diamo lo spessore giusto secondo cuscinetto poi il cavalletto insieme a un manubrio della sua età nel 94 lo vernice l'ho di bianco adesso vado a mettere il secondo cuscinetto eccoci e voilà tutti e due messi dentro giusti adesso andiamo a verniciarli diamo la mano di smalto eccoci è arrivata la nuova corona pbr 49 z 49 passo 560 per la briglia 125 rx 1994 44, io ho scelto l'acciaio, vado a metterla, ho dato una pulita a tutti i bulloni, e via, i guanti non riesco a lavorare, andiamo a puntare, a puntare, una volta, è stato necessario perché ormai era fatto, ormai il dente era a dente di sega, vuol dire, praticamente mangiato in direzione della trazione, quando succede questo, scavalla la catena, poi dopo succede quello che succede, intanto poi ho pulito tutto bene il cerchio, vedete che sto registrando, così, siamo quasi arrivati al rimontaggio, ho dato anche una mano di bianco al telaio, al rimontaggio finale dell'accensione dell'apriglia, il motore l'ho fatto in precedenza, ci sono tutti i video del motore, se non li avete visti, potete andare a trovarli nella playlist, adesso mancano due viti, ok, da ycedere e ruptura . . . . . . Buon appetito! Ecco, facciamo quattro, cinque segni. E voilà, grazie ragazzi, corona, manubrio, cavalletto verniciato e cambiato i cuscinetti dell'Aprilier X125-1984. Adesso è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete, guardate tutti i miei video.